Scusa E ora cosa stai cercando? Hai mai sentito di un uomo chiamato Marché? Sì, era conosciuto come la Talpa di Montmartre. Ho sentito che è stato ricoverato all'ospedale, forse per colpa di uno dei suoi nemici. In che ospedale è stato ricoverato? La clinica Hagenmeyer, in Avenue des Ericsson. Perché Marché era conosciuto come la Talpa di Montmartre? Perché viveva a Montmartre, penso. Sì, ma perché la Talpa? Non lo so. Magari ha rovinato il praticello di qualcuno. Vorrei denunciare un'aggressione. Sì, messier. Dov'è la vittima? Sono io la vittima. Sono stato aggredito da due delinquenti. Certo. E dove avrebbe avuto luogo questo presunto assalto? Fuori dall'albergo Ubu. Mi hanno fermato mentre stavo uscendo e mi hanno frugato le tasche. Potresti descrivere i sospetti, messier? Uno assomigliava ad un gorilla e l'altro sembrava un tipo astuto. I loro nomi sono Flap e Guido. Buon! Questa volta li acchiappo! Che cosa ha intenzione di fare con Flap e Guido, sergente? Li distruggo, messier. Per anni abbiamo cercato di incastrarli. Ora ho il pretesto giusto e lo dimostrerò sia a loro che all'inspecteur. Grazie, sergente. Grazie per avermi preso sul serio. Faccio solo il mio dovere, messier. Conosci un uomo di nome Cannes? È un uomo con un'aria ambigua e una cicatrice sulla guancia sinistra. No, messier. Si fa anche chiamare Thomas Merlin. Mi dispiace, messier Stabart. Non lo conosco. Quest'uomo ha a che fare con la bomba nel bar? Sì. Credo che Cannes sia il nome che ha usato quando ha affittato il costume da pagliaccio. È qui, Rosso. Oui? Gli vuoi parlare? Sì. Un momento, messier. È Stabart, messier. Insiste che ti vuole parlare di nuovo. Grazie, emu. E adesso, messier? Conosce due delinquenti che si chiamano Flap e Guido? Conosco quei due da quando si sono diplomati alla scuola speciale. Guido è un delinquente, ma è Flap la mente del gruppo. Dove ha sentito parlare di loro? Li ho incontrati fuori dall'hotel Ubu. Ha sentito parlare del dottor Pigram, l'archeologo? Molly Pigram? Il secondo genito di Lord Barclay Pigram? Non lo so. Ho letto qualcosa su di lui in una rivista. Così tanto per l'efficacia della riabilitazione. Che cosa ha fatto questa volta? Ha fatto una grossa scoperta archeologica in Irlanda. Conosce bene Pigram? Ho dei legami con la famiglia, ma non posso dire di conoscerlo bene. Si chiama veramente Molly? Naturalmente no. Gli hanno dato quel soprannome ai tempi della scuola. Tutti i suoi amici e conoscenti lo conoscono come Molly. Ha mai sentito parlare di un certo Marquet, Jacques Marquet? Marquet? Lo conosco bene. È stato arrestato per ricatto, rapimento, incendio doloso e furto di opere d'arte. Un tuttofare, eh? E perché a piede libero? Le sue bravate sono eguagliate solo dalla maestria del suo avvocato nei processi. Arrivederci, spettore. Arrivederci, spettore. Arrivederci, spettore. Chiedo scusa, sei tu André Lobinot? Sono io? Vuoi un autografo? No, mi hanno detto che tu puoi aiutarmi. Aiutarti? Mi chiamo George Stobart, vorrei la tua opinione professionale. Beh, va bene, spara. Vorrei la tua opinione su un manoscritto medievale. Ramon, ce l'hai qui con te? No, no, è troppo fragile e inoltre ci sono certe persone che non si fermerebbero di fronte a niente pur di metterci le mani sopra. Interessante! Hai una copia del testo? Non c'è molto, solo alcune frasi in latino. Speravo che tu potessi decifrare le figure. Senza vedere il manoscritto? È un compito piuttosto arduo. Dimmi solo una cosa. Cosa ti dice l'immagine di due uomini che cavalcano lo stesso cavallo? I cavalieri templari. Lo stemma dei templari appare su questo manoscritto? Vorrei vederlo di persona. Non mi puoi dire niente a proposito dei cavalieri templari? Certo che posso, Giorgi. Soldati, diplomatici, mercenari, monaci, banchieri e chi più ne ha più ne metta. I templari erano tutto questo. Il più grande esercito della cristianità, la milizia di Cristo. Cavolo! I templari, da dove l'hanno preso il nome? Dalla costruzione nella quale avevano stabilito il loro quartier generale. Il re di Gerusalemme diede loro parte di una moschea sul monte del Tempio. Si riteneva fosse stato il luogo dove una volta si trovava il Tempio di Salomone. L'ordine venne prima chiamato i Cavalieri del Tempio e poi successivamente i Cavalieri Templari. Sei una miniera di informazioni, André. Sono contento di aiutarti, Giorgi. Com'è che i Templari divennero così ricchi? C'era una corrente continua di nuove reclute nelle loro truppe, molte di loro da famiglie nobili. Gli veniva chiesto di fare voto di povertà, castità ed obbedienza. Così i loro denari, merci e terre venivano donati all'ordine. In poco tempo i Templari acquisirono terre in Francia, Scozia, Inghilterra, Spagna e in parecchie parti d'Europa. I poveri Cavalieri di Cristo divennero l'autorità più potente della cristianità. È vero che il tesoro dei Templari non è mai stato trovato? Ma chi lo sa? Si sa così poco di cosa sia realmente accaduto? O se si sa, la verità non è mai stata resa pubblica? Con questo cosa vorresti dire? I Templari sono ormai diventati dei miti, come il re Artù dei Britannici. Ancora oggi c'è gente che dice che i Templari esistono ancora. Pensi che questo sia probabile? No, neanche per sogno. Un'amica sta custodendo il manoscritto. A Parigi? Sì, non lontano da qui. Beh, allora dammi l'indirizzo e andrò a dargli un'occhiata. Non saprei. Forse dovresti metterti d'accordo con lei prima. Un'amica? Sì, è una donna. Forse era solo la mia immaginazione, ma avevo notato nei suoi occhi uno sguardo da predatore. Improvvisamente questo simpatico storico si era trasformato nel lupo cattivo. Questa amica ha con il manoscritto. Ah, sì! L'amica sconosciuta. Abita al 361 di Rougierry. Ah, la conosco bene. Ci andrò appena posso. Il nome Montfosson non ti dice niente? Certo. È stato fino alla rivoluzione lo spettacolo più orrido di Parigi. Un gabinetto pubblico? Montfosson era il luogo dove sono avvenute le esecuzioni di migliaia di persone. Uno spaventoso tempio della morte, con file e file di archi, ognuno con esposto un oggetto sinistro. Un sacco di corpi in putrafazione che ondeggiavano su corde, cigolanti, mentre i corvi divoravano la loro carne. Questo spiega la figura dell'uomo impiccato. Ho trovato un riferimento a Montfosson in Irlanda, in un paesino chiamato Lockmarn. Lockmarn? È dove scavava Pigram? Infatti, aveva abbandonato gli scavi prima che arrivassi. Dove si trovava Montfosson? A nord-est, vicino al canal San Marten, ma ora là non c'è più niente. Il vecchio patibolo è stato buttato giù durante la rivoluzione. Lo conosci bene, Pigram? Non molto. L'ho conosciuto ad una conferenza. Avrei voluto parlare di più con lui, ma non ne ho avuto il tempo. Quando è stato? Oh, in estate. Luglio, credo. La seconda settimana di luglio? Forse sì. Prima dell'anniversario della presa della Bastiglia. Così, Pigram era a Parigi nello stesso periodo delle altre vittime. Eh? Vittime di cosa? Ah niente, pensavo ad alta voce. Cosa ne pensi di questo? È la più grande gemma che abbia mai visto. Da chi l'hai avuta? Dal fattorino del professor Pigram. Pigram ha trovato questo agli scavi? Sì. Il luogo dove è stato trovato era un castello dei Templari. Pensi che questo potrebbe far parte del tesoro dei Templari? Oh, non penso. Grazie per il tuo aiuto, Andre. È stato un piacere. Grazie per il tuo aiuto. Grazie per il tuo aiuto. Il vecchio edificio conservava parte del suo splendore originale. Il lato moderno appariva come un cappellino da baseball su una statua di un santo medioevale. Grazie per il tuo aiuto. 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 Scusa. Oui, monsieur. È questa la clinica Hagenmeyer? Esatto. Pensavo di essere in un vivaio. Oh, le piante sono state una mia idea. Un po' di verde per richiamare lo spirito della natura. Cosa desideri? Guardi questo pass intestato. Così lei è Merlin. Marché ha chiesto di lei. Di me? Sì, stava urlando il suo nome quando l'hanno portato qui. Ora fammi pensare. Era nel reparto B12, se ricordo. Oh, è stato trasferito al... Oh no, è al reparto J2. È quello... Il reparto dell'infermiera Grendel. Ha ricevuto, Marché, una visita da due delinquenti? Spero proprio di no. Me li puoi descrivere? Un uomo magro che assomiglia a una donnola. E il suo amico, il gorilla. Sembra che siano usciti da uno zoo. Marché, ha ricevuto una visita da un tipo vestito da pagliaccio? Oh no. Non ha visto un uomo travestito? Beh, c'è l'orso Teodoro. Viene tutti i giovedì per far divertire i bambini. Personalmente penso che li spaventi a morte con quel brutto costume da orso. Se fossi a letto piena di tubi, sarebbe l'ultima persona che vorrai vedere. Perché non le piace l'infermiera Grendel? Dirige quel reparto come se fosse una prigione del Sud America. Far rispettare l'ordine in un reparto non è un crimine, vero? Rispettare l'ordine? Con le sue manie per la disciplina e le punizioni ha strappato la sigaretta di bocca al Marché de Sade. Sempre, proprio sempre, la stessa prassi. Sei in punto, sveglia. Sei e dieci, movimento intestinale, guai a chi non ottiene risultati. Alcuni dei suoi pazienti sono come i cani di Pavlov. Sembra che sia un vero incubo. Può esserne certo. Se l'infermiera Grendel è veramente così brutale, perché è tollerata dalle autorità? Fa parte dell'arredamento. Vuol dire che è qui da tanto tempo? No, voglio dire che non c'è uomo in questa clinica che non se la sia spassata con lei. Cominciavo a capire la situazione. Questa donna era gelosa, con la G maiuscola. Come faccio ad andare al reparto dell'infermiera Grendel? In fondo al corridoio sulla sinistra, poi giri a destra al bagno del primario. Poi ancora a destra nella sala del caffè dei dirigenti. Tenendosi sulla sinistra, oltrepassi la sauna degli amministratori. E alla fine giri a sinistra. Quello è J2 e buona fortuna. Grazie per il suo aiuto, madame. È stato un piacere. Salve, mi chiamo George Stobert. Veramente. Se desideri prendere un appuntamento, rivolgiti alla segretaria. Grazie per il tuo aiuto. Ciao, sono George Stobert. Che c'era? Chiamami George, se preferisci. Sei sicuro? Sì, è il mio nome. Mi chiamo Benoit, ma tutti mi chiamano Banni. Banni? Esatto, avevo questa simpatica abitudine quando ero piccolo. Tienitela per te, Benoit. Conosci l'infermiera del reparto J2? No, signore. È il primo giorno che sono qui. Non vedo l'ora di sporcarmi le mani. Naturalmente stavo parlando della cura del mio primo paziente. Non intendevo sporcarmi le mani con l'infermiera. Sai qualcosa di un paziente chiamato Marché? No, signore. Non so molto sui pazienti. Non ho mai conosciuto un dottore che abbia ammesso di non essere infallibile. Sto solo facendo il tirocinio, signore. Sono sicuro che diventerò all'altezza della situazione. Ci vediamo. Va bene. Appena girai l'angolo, vidi da dove proveniva quel rumore infernale che faceva eco tra i corridoi. Si trattava di una lucidatrice professionale, spinta da uno strano uomo. Salve! Cos'è? Ho detto salve! Oh, salve! Vorrei parlarti un minuto. Mi pareva che l'avessi detto. Non essere così depresso. Qualsiasi cosa succeda io non mi lascio mai abbattere. Oh sì? Qual è il tuo segreto? Diamine! È semplice! Tutto quello che devi fare è sorridere, fischiettare! Se inizi a fischiettare, ti tiro un pugno sui denti. Affare fatto! Sei dove posso trovare un paziente chiamato Marchè? No, non posso andare nel reparto con il signor Brillatutto! Non hai visto un tipo sospetto a girarsi per i corridoi? No, assolutamente! Ma non ho niente di cui preoccuparmi. Che cos'è, signor Brillatutto? Ti occuperai tu del furfante? Scommetto di sì! Con un amico come lui non ho paura di nessuno! Deve essere di gran conforto. Lo è! Scusa, ma il signor Brillatutto sarebbe la tua lucidatrice? Per favore non chiamarlo così! È un amico o più che una macchina? È da tre anni che ho il signor Brillatutto e non mi ha mai deluso! Come puoi essere così affezionato ad una lucidatrice? Ti avevo detto di non chiamarlo così! Ha un nome, sai? Ah, sì, signor Brillatutto. È solo che... Lo trovi strano, vero? No, io... Non importa! Il resto del personale ritiene che sia un po' svitato! Gli ho sentiti ridermi dietro quando facevo al signor Brillatutto la visita settimanale! Qualsiasi tipo di relazione tu abbia con questo straccio da pavimenti metallico è probabilmente giusta e nobile! Davvero? Sai, non è cosa da tutti i giorni incontrare un pazzo come me! Conosci un'infermiera di nome Grendel? Certo! È al lavoro oggi? Sì, in fondo al corridoio! Reparto J2! A dopo! Sì, stammi bene! Appena staccai la spina dalla presa la lucidatrice perse colpi scoppiettò e poi si spense Signor Brillatutto! Che c'è che non va, amico? Mmm, dottor Stobart al suo servizio! Pochi minuti dopo Grazie a tutti! Tu devi essere il ragazzo nuovo Ehm, sì, dovrei essere io Beh, allora smettila di andare in giro e renditi utile Bunny, vieni qui ragazzo Questa è Benoire, mio nipote Te l'affido Vai a cercarti un altro bambinaio, nonno Ma chi ti credi di essere? Sono Felix Hagenmeier Colgo l'occasione per dirti che è un onore incontrarti di persona Sei uno dei medici che ammiro di più Insieme a Pasteur e Liri Per me è un privilegio No, un onore Seguire tuo nipote Si è appena laureato Ti aprirà gli occhi vedere un vero medico al lavoro Ci puoi scommettere Fagli dare un'occhiata in giro Fagli vedere qualcuno che soffre veramente Arrivederci Hagenmeier Fagli dare un'occhiata in giro Salve, dottore Oh, salve È questo il reparto J2? Sì I pazienti sono pronti per la visita, dottore Ah, grazie, infermiera Bene, con chi cominciamo? Signor Koke, nel letto 2 Che problema ha? Si lamenta di avere delle perdite di conoscenza Le servirà questo, dottore Mi diede una scatola di metallo lunga e stretta Insieme a un sorriso strabiliante Grazie Salve, sono il dottor Stobbart Salve, dottore L'infermiera mi ha detto che continua a perdere conoscenza È vero, mi ricordo di aver sempre avuto questo problema È una vera esperienza fuori dal corpo, come la morte Ma non è una cosa così definitiva Capisco, quanto dura? Solo una frazione di secondo, poi mi riprendo Anche senza essere un dottore, ero in grado di formulare una diagnosi Questo ragazzo era pazzo So esattamente cosa vuole dire È conosciuto in campo medico come battere gli occhi È serio? Certo che non è serio, è perfettamente naturale Ma se pensa, due secondi ogni minuto Sono quasi mezz'ora al giorno Due settimane all'anno, passate nel buio più totale Non ho tempo di ascoltare queste sciocchezze In che letto è, Marché? È dietro l'angolo, in isolamento Che cos'ha? Non lo so, ma gli uomini che l'hanno portato qui portavano maschere e guanti di gomma Ehi, lei è un dottore Com'è che non lo sa? Noi dottori non sappiamo tutto Allora perché si comporta come se lo sapesse? Ha ricevuto nessuna visita, Marché? No, e neanch'io Stando rinchiuso è la cosa che odio di più qui dentro Ti senti abbandonato dal resto del mondo Sa com'è, la vita continua Grazie per le sue parole di conforto Bene, arrivederci e buona fortuna Grazie dottore Potresti dare un'occhiata al cliente del letto numero 3? Si chiama Eric Sopmarche Che problema ha? Sta delirando, è appena uscito dalla sala operatoria Sta riprendendosi dopo una brutta operazione Lo farò tornare in piedi prima che lei possa dire Lazzaro, alzati e cammina Salve, c'è nessuno in casa? Lei chi è? Sono il dottor Stobbart E sono qui per aiutarla lungo la difficile strada della guarigione Il dottor Moro ha detto che per il male che ho Non esiste alcuna cura Il suo problema è che passa troppo tempo a letto E' sicuro di essere un dottore qualificato? Farebbe meglio credermi Cosa ne pensa dell'infermiera Grendel? E' una giovane donna molto efficiente Efficiente? Sembra che stia parlando di un aspirapolvere Non ho niente di cui lamentarmi La donna all'accettazione Ha descritto l'infermiera Grendel come un mostro Non è assolutamente vero E' severa Ma dopo tutto questo è il suo lavoro, vero? In un posto come questo ci deve essere disciplina Cosa mi può dire a proposito di Marché? E' l'uomo nella stanza privata, vero? Quella stanza era la mia Prima che venissi sbattuto fuori come un abusivo Sa che cosa ha Marché? Non vogliono neanche dirmi che cosa ho io Mi dica dottore Lei cosa ne pensa? E' no Ancora troppo presto per arrivare a delle conclusioni Ma se sono qua ormai da tre mesi Ora le voglio misurare la pressione sanguigna Perché? Sono un dottore E' il mio lavoro Ora le voglio misurare Perché? Sono un dottore E' il mio lavoro A dopo Doctore Che c'è ora infermiera? Numero due di nuovo A me non dirà che cosa vuole Dice che parlerà solo con una persona Quell'uomo è pazzo Doctore Mi sorprende Non è questo il modo di parlare Nei riguardi dei nostri clienti Va bene, va bene Lo andrò a vedere Ma penso che quello sia un ipocondriaco Salve di nuovo Salve di nuovo Conosce il nome di quest'utensile? No Bene, arrivederci e buona fortuna Grazie dottore In questo reparto avete nessun paziente chiamato Marché? Ui monsieur E' nella stanza privata alla fine della corsia E' stato messo in stretto isolamento Perché si trova in quarantena Marché? Se desidera saperne di più dovrà parlare a Herr Hagenmeyer Tutto ciò che so è che l'accesso alla stanza di Marché è severamente vietato Sa chi ha pagato per la stanza di Marché? No, certo che no Un trattamento preferenziale come quello deve costare almeno un braccio e una gamba Questi non sono affari miei monsieur Non avete nessun pagliaccio nel reparto? Ma certamente, un pagliaccio professionista Scommetto che tira un po' sul morale a questo posto E' molto difficile, monsieur Boissy è in coma da tre mesi Cosa c'è che non va con Boissy? E' stato coinvolto in un brutto incidente Uno stupido acrobata su di un monociclo La sua attuale condizione è dovuta ad uno shock post-traumatico E' probabile che non possa più lavorare come pagliaccio Tira un'aria che non porta niente di buono Grazie infermiera Au revoir monsieur Dottore Cosa c'è? Non mi ha misurato la pressione Cosa c'è? Non mi ha misurato la pressione Mi sembra che vada bene. Non lo sta facendo nel modo giusto. Certo che lo è. No, il dottor Monroe non ha mai fatto in questo modo. Non si riesce a leggere bene se continua a essere così agitato. Tornerò più tardi. Il nome sulla scheda era Sopmarsh. Ehi, Benoire! Non c'è bisogno di urlare. Che cosa vuoi? Prendi questo strumento per misurare la pressione. Grazie, signore. Che cosa vuoi che faccia con questo? Beh, tienilo al sicuro finché non mi viene in mente qualcosa. Sei pronto con quello strumento per misurare la pressione? Caricato e pronto a pompare, signore. Che cosa vuoi che ci faccia? Provelo su Eric Sopmarsh. Vabbene. Sono il dottor Staubert. Ha visto nessun tipo sospetto nel reparto? Sì. Un gorilla e una donnola? No. Questo era un vecchio orso malandato. Perché l'orso si comportava in modo sospetto? Beh, indossava un cappello di feltro. Ed è contro la legge? No, ma è strano per un orso. Pensa potesse essere possibile che l'orso fosse un uomo travestito. Ah beh, è ovvio. Non sono mica del tutto stupido. Ma chi si prenderebbe la briga di travestirsi da orso? Non è che passi inosservato. Ho controllato dall'inizio per accertarmi che nessun orso fosse scappato dallo zoo o da qualche circo. Mi hanno detto di star fermo fino all'arrivo dei rinforzi. Immagino che avessero ragione. Sarebbe stato del stupido affrontare un orso con una sola mano. Ha sentito di un uomo chiamato Marché? È in quarantena, dottor. Proprio dietro questa porta. Marché è proprio l'uomo che volevo vedere. Non scendrei se fossi in lei. All'entrace. Devo visitare il mio paziente. Per che cosa? Semplice routine. Devo controllare che sia ancora vivo. E se non fosse così? Firmerò il certificato e farò registrare il suo letto come libero. Questa è un'attitudine fredda e distaccata nei confronti della morte. Mi hanno insegnato a comportarmi in modo indifferente. Il camice bianco le dona proprio. Grazie. Riesce a identificare l'uomo in questa foto? No, non l'ho mai visto prima. È lei Thomas Merlin della Gruber Electronics? No. Allora non avrà bisogno di questo. Arrivederci. Au revoir, dottore. Se vedi l'orso, lo prendo a calci sulla zucca. Meglio te che me, amico. Marchè. Sì, sono io, Marchè. Sapevo che sarebbe arrivato. Veramente? Beh, che cosa sta aspettando? Facciamolo subito e non pensiamoci più. Ah 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 ah. E volevo soltanto sapere cosa devo farmene di questa gemma. La gemma di Lockmarn? Sì, ce l'ho proprio qui in tasca. Pensavo che lei fosse uno degli Ashashin. No, non io. Non è mai stata una mia aspirazione. Così è stato mandato lei al mio posto. Oh, sì. Sarebbe stato difficile affrontare un viaggio in Irlanda nelle sue condizioni. Cosa dovrei farmene della gemma? Spedirla al Gran Maestro, alla svelta. Gli dica che ho trovato il treppiedi proprio qui, a Parigi. Veramente? Non ancora, ma se ne stanno occupando. Ho ingaggiato una coppia di scagnozzi con una predisposizione per i piccoli crimini. Sono Flap e Guido, per caso. Li conosce? Ci siamo incontrati. Perché quello grosso si chiama Flap? Che mi dice a proposito degli Ashashin? È più probabile che abbia seguito Klausner. Non si fermerà davanti a niente, pur di impedire la riforgiatura della spada. E questo non va bene, vero? Come Klausner è partito per la Siria per una ricerca inutile. Perché? Lui ha una teoria a proposito del luogo del... Ci siamo già stancati troppo per oggi, Monsieur Marquet. E lei che cosa ci fa qui? Sto parlando col paziente, naturalmente. Monsieur Marquet è il mio paziente. Se lo sapesse Herr Hagenmeier... Va bene, me ne vado. In ogni caso, avevo appreso tutto quello che potevo da Marquet. Finalmente la trovo. Stavo quasi per venirla a cercare. Ho finito col suo aggeggio per la pressione. Grazie, Bunny. Cosa è stato questo rumore? Sembrava qualcuno in procinto di avere un arresto cardiaco. Va tutto bene. Il dottore è là dentro con lui. E' sicuro che fosse un dottore? Ui, Monsieur. Mi ha fatto vedere la sua carta d'identità. Era il Dr. Bray. Non c'è nessun Dr. Bray che lavora qui. E' un impostore. La porta è chiusa a chiave. Mi aiuti, agente. Stato in dietro, Monsieur. Buono. Nell'appartamento di Nico Ho trovato Jacques Marquet Ha parlato? Sì, ha parlato per l'ultima volta È morto? Sì, è stato ucciso a sangue freddo da un tipo che si spacciava per un dottore Che vergogna Che razza di uomo si farebbe spacciare per un dottore e si approfitterebbe di un morente? È stato Khan? No, non so chi fosse, ma di sicuro non era Khan È scappato! Fuori dalla finestra! Hai scoperto qualcos'altro sui cavalieri templari? Sì, il responsabile per il loro declino è stato Filippo IV, il re di Francia Conosciuto anche come Filippo il Bello? Beh, storicamente conosciuto con il nome di Filippo il Giusto, ma dubito che i templari lo chiamassero così Sono sicura che André sappia tutto su di lui Pensi che l'assassino sia responsabile della morte di Marquet? Non penso Avrebbe potuto dargli il colpo di grazia la prima volta Altrimenti Marquet lo avrebbe riconosciuto Era pieno di sedativi Non avrebbe riconosciuto i quattro cavalieri dell'Apocalisse A meno che non si fossero presentati personalmente Hai mai sentito parlare degli Ash Ashin? No Marquet ha detto che erano i suoi peggiori nemici Il suo peggior nemico era il tipo che si è fatto spacciare per un dottore Non ricordarmelo Quel tipo era proprio malvagio I suoi occhi fissavano il vuoto come un pesce morto Non mi fiderò mai più di un dottore Penso sia meglio che vada a parlare di nuovo con quel tipo strano Quale? Rousseau o il sergente Mouet? O ti riferivi ad André? Te lo lascio scoprire da sola Grazie a tutti Grazie a tutti